Tanto veramente per noi è stata una giornata bellissima oggi, io penso che abbiamo sentito delle cose molto belle, abbiamo fatto una realizzazione bellissima e di questo non posso che ringraziare Massimo Mauro, il Presidente, ce lo siamo detti più volte, ci conosciamo forse da troppo tempo, però rivederci in questo contesto veramente mi fa molto piacere, è il Presidente anche, quindi credo che qui oggi abbiamo due temi fondamentali, abbiamo capito quanto è importante per una istituzione di ricerca avere una biobanca, oggi abbiamo festeggiato e inaugurato una importantissima per la SLA che veramente sono patologie queste che a volte lasciano stravolti, che vanno affrontate in maniera multidisciplinare, avere una biobanca che come è stato detto molto bene è a disposizione di tutti, è un magnifico esempio di interazione tra un'istituzione scientifica, un'associazione e dei finanziatori, credo che questo sia un esempio meraviglioso, è una biobanca a disposizione di tutti e quindi questo rende più forte la ricerca sul settore e in particolare la ricerca italiana. Parlando di biobanche non si può non dire che sono la struttura portante della ricerca, cioè se noi non avessimo delle biobanche adeguate la ricerca andrebbe in maniera lentissima e quindi per me è una giornata importantissima per dire che un IRCS come il nostro non poteva che dotarsi di una biobanca così, quindi veramente grazie di tutto quello che è stato detto oggi, grazie di averla realizzata, noi ci abbiamo messo il nostro e continueremo a impegnarci tantissimo su questo.